Il Valdarno va verso Firenze e a Montegonzi costituiremo un comitato per passare la provincia di Siena, chiedendo di entrare a far parte del comune di Gaiola Inchianti. La provocazione è di Lorenzo Piovosi, personaggio molto conosciuto in zona. Ex esponente del Partito Comunista, eletto in passato anche in Consiglio Comunale a Montevarchi, ambientalista da sempre, oggi Piovosi abita nel suo paese natale, Montegonzi. Questo piccolo agglomerato di case sulle colline di Cavriglia confina con il Chianti Senese e Piovosi, nella sua pagina Facebook, ha voluto dire la sua sull'eventualità di lasciare la provincia di Arezzo e di passare all'area metropolitana fiorentina. Un argomento questo di strettissima attualità, lanciato per giunta dal consigliere regionale ex sindaco di Cavriglia Enzo Broggi. Mi adopererò per costituire il comitato per portare Montegonzi nel comune di Gaiola, ha scritto Piovosi sul social network, visto che i valdarnesi, dopo che si saranno voluti unificare, verranno trasferiti nell'area metropolitana di Firenze e così come succede in tutto il mondo, avranno i privilegi che hanno le periferie delle metropoli. Piovosi ha tenuto a precisare che la sua non è una battaglia contro Cavriglia, né tantomeno contro il valdarno, ma il sindaco degli innocenti Ossanni, intervenendo, ha subito chiarito che è tecnicamente impossibile per Montegonzi passare al comune di Gaiola. Quella di Piovosi è certamente una provocazione che però affronta un tema importante, ha detto il sindaco. Anche a riguardo al comune unico i passi devono essere fatti uno alla volta. Intanto noi di Cavriglia abbiamo iniziato un percorso di integrazione di alcuni servizi, ad esempio con San Giovanni, e stiamo discutendo anche con il comune di Figline Incisa per la viabilità del Porcellino. Senza dimenticare che stiamo parlando di una gestione complessiva di dieci comuni sul tema del sociale. Andare subito al comune unico è solo teoria, ha concluso Sanni, e anche sull'area metropolitana ci andrà i cauto. Prima bisogna valutare vantaggi e svantaggi, perché il peso che il valdarno ha oggi con Arezzo non è quello che un domani avrebbe con Firenze.